Saranno almeno tre i candidati alla carica di sindaco alle elezioni amministrative di Iglesias in programma il 28 e 29 maggio prossimi. Dopo la ricandidatura del sindaco uscente Mauro Usai, 34 anni, uomo di punta del Partito Democratico, alla guida di una coalizione di centro-sinistra e la candidatura di Beppe Pes, 66 anni, direttore della struttura complessa di cardiologia del presidio ospedaliero unico di area omogenea di Carbonia, ex consigliere comunale, alla testa di un progetto civico, si è aggiunta la candidatura di Luigi Biggio, 45 anni, consigliere comunale uscente ed ex assessore nella giunta Perseu per Fratelli d'Italia. E in fase di definizione il panorama delle liste a sostegno delle candidature di Mauro Usai e Beppe Pes, mentre Luigi Biggio al momento dovrebbe correre con l'appoggio della sola lista di Fratelli d'Italia. Inizialmente Fratelli d'Italia pareva orientata a sostenere la candidatura sindaco di Beppe Pes. Il mancato accordo sarebbe maturato a seguito della caratterizzazione civica della stessa e della coalizione di sostegno, in base alla quale il partito avrebbe dovuto presentarsi agli elettori senza il simbolo, condizione ritenuta questa inaccettabile. Inevitabile a quel punto la scelta di correre da soli con il simbolo del partito di Giorgia Meroni è un proprio candidato alla carica di sindaco Luigi Biggio.